Musica Edizione serale del TG Noi Versilia, buonasera e ben ritrovati con la nostra informazione. È arrivata Susanna Camusso, la leader della CGL a Viareggio, in serata per inaugurare la nuova sede della Camera del Lavoro nel cuore di Viareggio, vicino al municipio. Ha parlato ovviamente di lavoro, di occupazione, lotta al mercato nero, ma anche di sicurezza in ferrovie. Sentiamo. È arrivata anche la segretaria generale Susanna Camusso all'inaugurazione della nuova sede della CGL della Versilia, che lascia lo storico edificio di Piazza Manzoni per andare ad occupare l'ex sede della Viareggio Patrimonio, a un passo dal municipio. Una folla di sindacalisti, sostenitori, amministratori locali e di area ha assistito al taglio del nastro. Accanto alla Camusso la segretaria regionale Dalida Angelini, via Regina, e il segretario provinciale Rossano Rossi. Lavoro in nero e precariato sono stati temi affrontati dalla leader sindacale. Bisogna ripigliare gli investimenti a partire da quelli pubblici e non attendere esclusivamente che arrivino degli investimenti, finalizzarli alla qualità del territorio, alle nuove attività, quindi finalizzarli al fatto che ci sia dell'occupazione. E credo che noi non abbiamo, che se ne dica, ancora riassorbito la lunghissima stagione della crisi e la riduzione del sistema produttivo. Dal punto di vista della crescita invece del lavoro sommerso, del lavoro precario, c'è una legislazione sbagliata, ci sono pochissimi controlli, anzi spesso non ce li è. Camusso ha parlato anche di sicurezza sul lavoro, con riferimento all'incidente ferroviario di Viareggio del 2009. Io credo che ci sono delle cose che spettano all'attività della magistratura, ci sono delle cose invece che riguardano le modalità con cui si fanno le infrastrutture del nostro paese e la loro attuazione. E che ci sia un grande bisogno di investimenti sulla linea del ferro in Italia non c'è nessun dubbio. Una giornata storica è stata osservata per la Camera del Lavoro Versiliese, nata nel lontanissimo 1901. Oltre alle contingenti necessità che ci imponevano di cambiare la sede, c'è anche la nostra volontà di riconfermare una presenza importante in un territorio che ha una storia, una tradizione ricca di sindacato. Non ci scordiamo, la Camera del Lavoro di Viareggio è 117 anni che esiste, a Viareggio un cittadino su 10 ha scritto alla CGL, è un territorio che come il resto d'Italia ha tanto bisogno di sindacato. Voltiamo pagina adesso, finalmente una buona notizia per l'Istituto Sacro Cuore di Gesù di Viareggio, l'Istituto dei Poveri Vecchi che riceve un lascito record da parte del senatore Pieraccini. Poche settimane fa la scomparsa della vedova Vera Pieraccini, ieri la lettura del testamento in dote all'Istituto per Anziani, arrivano appartamenti e anche un lascito consistente di quadri d'autore. Soddisfatto ovviamente il presidente dei Poveri Vecchi che rischiava davvero la bancarotta. Sentiamo. Per la Casa di Riposto Sacro Cuore di Viareggio, centro residenziale per anziani, arriva un generoso lascito dalla famiglia Pieraccini che porta nelle casse della struttura un immobile di prestigio a città giardino e almeno 300 quadri d'autore. Tra questi Salvador Dalì, Sironi, De Chirico e altri artisti di grande fama. Una disponibilità importante di risorse che arriva ad hoc per l'Istituto Poveri Vecchi di Viareggio che anche nel 2017 chiuderà il bilancio in passivo di circa 140 mila euro. Una grandissima notizia per la nostra casa perché, come sapete, la città di Viareggio lo sa, abbiamo sempre necessità, i nostri bilanci sono sempre in passivo continuamente. Il lascito Pieraccini è stato perfezionato in queste ore nello studio Viareggio del notaio Monaco. Di questi tempi è difficile trovare benefattori che elargiscano somme così rilevanti, spiega il Presidente dell'Istituto Giannecchini, che ha preso della donazione solo all'apertura del testamento della vedova del senatore Pieraccini. La prima notizia che io l'ho avuta, l'ho avuta dal notaio. Ho già convocato il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per sabato prossimo, che dovremmo fare l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Decideremo che cosa fare perché è certo che il patrimonio deve essere realizzato. I quadri non possiamo darli a mangiare vecchietti, fra parentesi. Quindi dobbiamo realizzare, anche perché ho letto che ci sono diversi lasciti che dobbiamo liquidare, anzi dovrà liquidare l'esecutore testamentario, che è il professor Corti Federico. È stato firmato a Firenze l'accordo con la ditta dell'appalto di ristorazione nelle caserme dei Vigili del Fuoco della Toscana, che prevede il reintegro delle lavoratrici che fino al 31 dicembre cucinavano i pasti nei distaccamenti. Anche per la provincia di Lucca, la protesta nelle settimane scorse, nei primi giorni dell'anno, in particolare a Via Reggio e Pietrasanta Lucca. Dopo le mobilitazioni e le proteste nei giorni scorsi dei lavoratori tra sindacati regionali di categoria, è stato firmato un verbale d'incontro che prevede l'assunzione di lavoratrici. Niente più pasti preconfezionati, dunque, al ritorno della cucina espressa anche nei distaccamenti di Pietrasanta, Via Reggio e Castelnuovo Garfagnana. A Pietrasanta adesso, per parlare di accoglienza migranti dopo il caso Capriglia, c'è anche una parte di città che dice sì ai richiedenti asilo. C'è anche una Pietrasanta che dice sì all'accoglienza di migranti e lo fa attraverso il neonato comitato 9 gennaio, un gruppo di cittadini che si dichiarano antirazzisti e antifascisti, che non hanno condiviso la levata di scudi dei residenti di Capriglia, la località collinare dove dovranno arrivare circa 20 richiedenti asilo. In questi giorni è partito un volantinaggio al mercato cittadino per sensibilizzare sul tema all'indomani dell'attentato incendiario ai danni della struttura di Via delle Piane che dovrà essere adibita al centro d'accoglienza. Abbiamo pensato che fosse un atto veramente brutto per questa comunità che di solito è sempre stata tollerante e accogliente. E quindi abbiamo deciso di richiamare chi è a favore dell'accoglienza a solaio e di ritrovarci tutti insieme e discutere su come affrontare la situazione e che misure prendere. Noi abbiamo sempre cercato e sempre cercheremo il dialogo con tutti, vogliamo incontrarli e capire perché sono contrari ad accogliere dei migranti. Il gruppo, almeno 70 persone, non nega di appartenere alla sinistra ma vuole abbassare i toni del dibattito. Così come è stato fatto giovedì al mercato sarà nostra premura informare i cittadini appunto facendo del volantinaggio serrato su tutto il territorio Pietrasantino e continuare a vederci come assemblea e monitorare quello che sarà la situazione lassù a solaio. Sicuramente interagendo con i cittadini, cioè creando dei ponti, non certamente creando delle situazioni di disagio. La politica e l'elezione di Giorgio Del Ghingaro, presidente della conferenza dei sindaci della Versilia, ha determinato la ripresa dei rapporti istituzionali versiliesi interrotti a causa dell'uscita unilaterale di Viareggio e Pietrasanta dalla Società della Salute. Lo scrive Luca Poletti, capogruppo del PD a Viareggio, grazie al senso di responsabilità degli altri sindaci e il contributo del commissario prefettizio di Pietrasanta, prosegue Poletti, si è potuto fare un passo in avanti indispensabile per riportare le amministrazioni allo stesso tavolo. Ora conclude Poletti, spetta l'amministrazione di mostrare di essere all'altezza di guida del comprensorio. Primi banchi di prova, sanità e transazione su CAV, TME. Sconti sulle tasse per chi va a vivere stabilmente in Alta Versilia. È l'iniziativa del sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. Venite a vivere in montagna. Sembra questo il messaggio dell'amministrazione di Stazzema, che si appresta a varare un pacchetto di sgravi fiscali per chi investe e chi prende la residenza nel territorio dell'Alta Versilia. Per i nuovi residenti è previsto l'azzeramento dei tributi comunali sulla prima casa per l'anno 2018 e una riduzione del 50% per i due anni successivi. Per coloro che ristrutturano l'abitazione principale è previsto uno sconto del 30% sugli oneri di urbanizzazione, mentre uno sconto del 20% è previsto per gli ampliamenti e la nuova edificazione. C'è anche l'azzeramento della tasse sui rifiuti. Il provvedimento sarà approvato nei prossimi giorni e punta a combattere lo spopolamento della montagna. Altro passo è il coinvolgimento della Banca di Credito Cooperativo della Versilia. Il sindaco Maurizio Verona ha scritto al presidente della BVLG per incentivare l'erogazione di prestiti e mutui a chi apre attività, compra o ristruttura case nello stazio mese. Festeggia 100 anni di attività l'Associazione Lucchesi nel Mondo. Sentiamo. 50 anni fa, per la precisione l'11 settembre 1968, nasceva l'Associazione Lucchesi nel Mondo, fondata da un gruppo di privati cittadini ed enti con l'intento di costruire un ponte di collegamento tra la Lucchesia e le comunità di suoi conterranei all'estero. Per celebrare il mezzo secolo di attività, la presidente dell'Associazione Ilaria del Bianco, in una conferenza stampa a Palazzo Ducale, ha annunciato che è in fase di preparazione un ricco programma di iniziative che proseguiranno per tutto l'anno. Il 2018 sarà un anno di festeggiamenti su tutto il territorio provinciale ed insieme alle più grandi ed importanti istituzioni, sia pubbliche, i vari comuni e le loro organizzazioni, sia con i soggetti che producono cultura sul nostro territorio. Avremo anche alcune manifestazioni all'estero molto importanti, dove come sempre uniremo la visita alle nostre comunità, quindi la vicinanza ai nostri conterranei all'estero, che mai deve mancare, al momento promozionale del nostro territorio e delle sue eccellenze. in quest'ottica, in cui noi vogliamo anche reinterpretare l'Associazione come un motore che si affianca agli altri già presenti per lo sviluppo turistico e anche economico del nostro territorio provinciale. Tra le iniziative su cui sono state fatte alcune anticipazioni, ci sono la mostra dei gelatai nel mondo, alcuni eventi realizzati in sinergia con la Fondazione Carnevale, il concerto pucciniano in collaborazione con il Teatro del Giglio, e la cerimonia celebrativa dell'anniversario che si svolgerà il 15 settembre. Sarà il mestiere dell'attore il tema del nuovo appuntamento con il talk show Senti chi parla in programma domenica 14 gennaio alle 16.30 presso il Musa, Pietrasanta, Museo della Scultura e dell'Architettura, ospiti dell'incontro dedicato ai bambini, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana nell'ambito di Pietrasanta a misura di bambino. Saranno infatti gli attori Andrea Buscemi e Martina Benedetti che risponderanno alle domande dei ragazzi e sveleranno tutti i segreti della recitazione, del mestiere dell'attore e del dietro le quinte. Un'occasione ghiotta per conoscere una professione che da sempre affascina grandi e piccoli. L'incontro sarà moderato da Massimiliano Simoni, ideatore del progetto e coordinatore artistico di Pietrasanta a misura di bambino che vede al lavoro anche lo staff della Versiliana con Valentina Benassi. E qua vediamo alcune immagini delle ultime attività di questa edizione della Rassegna. Dai piccoli, dai bambini della Versiliana ai più grandi, anzi dovremmo dire in questo caso ai più anziani, 89 anni, Lieto Nardini è il barbiere più in attività, più longevo d'Italia. Ed è a Forte Remarmi, ne ha incontrato il nostro Paolo Barberi. L'età anagrafica non è un'opinione. Scherza soddisfatto Lieto Nardini, barbiere a Forte Remarmi. 89 anni e rivendica con fierezza il suo primato, quello del barbiere più longevo d'Italia. Con l'età non si scherza, spiega il nostro collaboratore Paolo Barberi, mentre fa la barba ad un cliente nel suo storico salone nel centro di Forte Remarmi. Con i suoi 74 anni di professione, avendo iniziato a 15, a tutti gli effetti Lieto Nardini è l'artigiano di barba e capelli più anziano in attività e nel taglio all'Umberta, ancora oggi, a detta dei fedelissimi, non ha rivali. Il suo negozio è ancora oggi un punto centrale di ritrovo con gli amici per lunghe chiacchierate. Sotto le sue mani sono passati tanti personaggi, da Curzio Malaparte, quando era il confino, al Forte, a Fausto Coppi, poi altri che hanno sempre trovato la massima riservatezza. Per Lieto Nardini e per i suoi 74 anni di rinterrotta attività al Forte, si sono mosse le telecamere Mediaset, di Rete4, di Tg e dalla vostra parte con il direttore Maurizio Belpietro. Dal 52 che sono qua dentro, 66 anni, sempre qui dentro. Perché io sono affezionato alla clientela e si raccomanda non lasciarli. E a lasciare, mi dispiace, a quest'età qui, se vai a casa, ti butti la televisione sulla poltrona, sei finito. Sempre a Forte dei Malmi sono stati appaltati i lavori di manutenzione della fognatura bianca, un accordo quadro dove sono stati previsti tutti quegli interventi di manutenzione delle condotte di smaltimento delle acque piovane, compleso il rifacimento di alcuni tratti occlusi o danneggiati. Un contratto da 90.000 euro, lavori che sono stati attivati in questi giorni, in corso anche la sistemazione degli uffici City Lungo il Viale Franceschi. Adesso invece andiamo a Viareggio per mostrarvi un'esposizione fotografica nel centro della città. Vediamo. Ninsei Camp è stato un creativo che ha rinnovato la danza, rivisitandola attraverso il mimo, le luci e la musica. Con lui il teatro danza è diventato un concetto familiare per gli spettatori di tutto il mondo. Agli spettacoli più famosi di Camp, che tenne anche sotto il tendone di Bussara Domani, all'Ido di Camaiore e alla Versiliana, è dedicata la mostra fotografica di Renzo Belli, che è stata inaugurata oggi presso il Centro Culturale Espositivo Acrel di Via Verdi 247 a Viareggio. Sono esposte una cinquantina di stampe in bianco e nero di grande formato, che il professor Renzo Belli ha prodotto nell'arco di tempo tra il 1985 e il 1990, seguendo la compagnia di Camp alla Versiliana e nei teatri di Prato e di Lucca. Molte delle immagini sono tratte dalle rappresentazioni di Flowers, uno dei più noti balletti creati da Lindsay Camp, la cui arte ha ispirato, fra gli altri, la rock star David Bowie. Quello che vediamo alle mie spalle è una realizzazione importantissima, è una cosa che certamente ha fatto parlare di sé, continua a far parlare di sé, e una cosa importante è che con il carissimo amico Belli si fanno delle cose di qualità. Renzo Belli, laureato in Fisica, ha svolto per 25 anni l'attività di preside all'Istituto Nautico e all'ITI, fotografo da sempre, ha al suo attivo una decina di libri. Parliamo di volontariato adesso per una settimana. Quattro volontari delle Misericordie Versiliesi saranno in servizio ai Musei Vaticani a Roma, alternandosi con altre Misericordie italiane. Nella foto da destra a sinistra vediamo Andrea Paci della Misericordia di Lido di Camaiore, Nicola Sbonino della Misericordia di Massarosa, Stefano Deseris di Capezzano, Guido Donatelli della Misericordia Massarosese. Vi ricordo che sabato, sabato 13, torno all'auditorium Caruso di Torre del Lago, il Viareggio Gospel Festival. Siamo alla quinta edizione, l'organizzazione a cura dell'associazione Rising Sound di Viareggio che avrà il suo coro a fare gli onori di casa. Ci fermiamo con la cronaca, tra poco riprendiamo subito con le notizie sportive. A tra poco. Ben ritrovati, eccoci con la pagina sportiva. C'è l'Hockey su pista. In primo piano sabato sera tornano a giocare alle Versiliesi che saranno impegnate in Eurolega. Sentiamo il nostro Roy Lepore. Dopo le recriminazioni e la delusione per il pareggio a Valdagno 7 a 7 di martedì sera da parte della Cdc la squalifica avventura di due giornate da scontare in campionato. Intanto la società farà ricorso. I bianconeri sono impegnati in Eurolega sabato alla Pala Barzacchi quando arrivano i tedeschi dell'Iselon che furono battuti 3 a 1 con una splendida doppietta di Renaldo Ventura nella gara di andata. Per i bianconeri questo è un confronto importante per restare in corsa nel girone A davanti all'Oliverenze. Ecco perché i bianconeri intendono conquistare i tre punti in tutti i modi. La gara sarà diretta dagli arbitri portoghesi Riccardo, Leao e Joao Duarte. L'Hockey Forte dei Mammis riceve in casa invece il Montreux per la prima giornata del girone C di ritorno di Eurolega. È già in atto la prevendita presso i punti soliti con 12 euro biglietto intero, 8 ridotto. Alla cassa la sera della partita il costo dei biglietti sarà di 15 euro interi e 10 ridotto. Lasciamo l'Hockey Calcio, grande successo per i piccoli calciatori della Scuola Calcio e Viareggio National Young nella categoria Pulcini 2008 che domenica 7 gennaio si sono imposti al torneo organizzato dalla Società Calcio San Giuliano Terme Scuola Calcio gemellato con la Trenta Calcio. Al cospetto di formazioni provenienti dalle province di Lucca, Pisa, Livorno i ragazzi allenati da mister Raffaele Francesconi, Alessandro Bortone e Gianni Florio hanno sbaragliato letteralmente gli avversari, si sono imposti in tutte le partite fino al girone finale a quattro squadre durante il quale al termine di gare molto combattute hanno sconfitto i parietà del Calci, della Junior Lucchese e della Bellaria Cappuccini. E rimaniamo tra i ragazzi, tra i giovani, c'è una novità in tutta la provincia di Lucca perché debutta, arriva anche sul nostro territorio per la prima volta l'Accademia dello Sport sentiamo di cosa si tratta. Conciliare l'attività sportiva agonistica con lo studio, una missione quasi impossibile per molti giovani finora. A Lucca, dal prossimo anno scolastico, approda infatti l'Accademia Toscana dello Sport progetto formativo dedicato ai giovani atleti. A promuoverlo Fisi, Comitato Appennino Toscano, Fondazione Campus, Liceo Sportivo Fermi in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, il Comune e la Federalberghi di Forte dei Marmi. Il format ha l'obiettivo di evitare che quei ragazzi che svolgono attività sportiva a livello agonistico stretti nella morsa dello studio, degli allenamenti e delle gare abbandonino la scuola come invece accade frequentemente. Oggi grazie all'aspetto digitale possiamo avvicinare tantissimo le due cose facendole diventare un'unica cosa. I ragazzi che anche sono distanti, che hanno degli impegni sportivi possono tranquillamente avere la possibilità di seguire delle lezioni all'istanza come si fa normalmente per l'Università Telematica e quindi si sta tentando in tutti i modi di portare questo mondo anche nell'ambito della scuola di secondo grado. Quindi i ragazzi potrebbero avere questa grossa possibilità di uscire a seguire delle lezioni a distanza e poi fare delle lezioni intensive durante i periodi di non impegno sportivo. Il liceo Fermi Giorgi offrirà due percorsi educativi ad hoc liceo scientifico e istituto professionale. Il programma prevede la possibilità per gli studenti di accedere a una piattaforma online attraverso cui gli insegnanti potranno monitorare lezioni e questionari durante la permanenza degli atleti presso i rispettivi club di appartenenza. Grazie a Fondazione Campus i giovani sportivi potranno seguire il proprio percorso formativo anche dopo il diploma con corsi di laurea e master. Il ciclismo adesso partirà ancora una volta da Lido di Camaiore e della Versilia la corsa a Tirreno Adriatico breve corsa a tappe tra le più importanti al mondo mercoledì 7 marzo si disputerà la crono squadre di apertura sul lungomare lidese 21 chilometri e mezzo il giorno dopo invece scatterà da Camaiore la seconda tappa per velocisti che porterà i corridori a Follonica la corsa a Re Due Mari vivrà nel ricordo indelebile di Michele Scarponi si legge in una nota che presenta l'edizione 2018 e non a caso la quinta tappa arriverà a Filottrano paese del grande campione marchigiano scomparso la scorsa primavera. Ci fermiamo anche con la pagina sportiva tra poco terza e ultima parte del telegiornale. Ben ritrovati terza parte del TG9 Versilia non abbiamo aggiornamenti di cronaca non ci resta che venire alla rubrica consueta degli auguri questa sera auguri di buon compleanno a Luca Cinotti ex capo servizio del Tirreno di Viareggio oggi a Lucca auguri da parte dei parenti, degli amici e dei colleghi di lavoro. Con gli auguri abbiamo chiuso questa edizione del telegiornale io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie per la visione!